Ciao a tutti, io sono Mirko e oggi vediamo questa videocamera per FPV della Runcam. Si tratta della Micro Sparrow, se volete acquistarla vi lascio il link in descrizione. La Micro Sparrow è compatibile sia col formato NTSC che con quello a PAL ed è possibile scegliere quello usare direttamente dal suo menu. Il formato è 16 noni, quindi ideale per gli occhiali Fatshark Dominator V3 o comunque che hanno questo formato video. Può essere alimentata da 5 a 36V e il campo visivo è di 145 gradi. All'interno della confezione troviamo la camera, un set di viti, il cavo per i collegamenti ed un joystick per navigare all'interno dell'OSD. Non è presente alcuna staffa di fissaggio che eventualmente andrà acquistata a parte. Questo aspetto è da tenere in considerazione in quanto la Micro Sparrow è troppo piccola per essere montata negli alloggi delle classiche 1177 o Swift. Il Front Factor infatti la rende ideale per i micro quad da 100mm o simili, se volete montarla su un frame più grande allora dovete prendere anche la staffa, trovate sempre il link in descrizione. La confezione comprende due staffe metalliche con relative viti di fissaggio, lo spessore di 1,1mm rende queste staffe solide e stabili. Vediamo ora peso e dimensioni. Questa camera è quadrata ed ogni lato misura 19mm. La profondità è di 17mm. Il peso è di 5 grammi. La risoluzione video è di 700TWL. Sul retro della camera troviamo due connettori, il primo con voltaggio, terra e segnale per connetterla al nostro quad, il secondo invece è quello per collegare il joystick e regolare le impostazioni all'interno dell'USD. Il sensore è un CMOS da un terzo. Molti quando sentono parlare di sensore CMOS credono che si tratti di camere di bassa qualità. Quest'opinione si è creata perchè le prime ed economiche videocamere che si usavano per FPV montavano proprio questo sensore. In realtà il sensore CMOS possiede ottime caratteristiche come una maggiore risoluzione e un wide dynamic range più accurato. Per questo i moderni sensori CMOS stanno comparendo di nuovo nelle videocamere FPV dei maggiori produttori, come appunto Runcam. Adesso non ci rimane altro che montarla su Miniquad e procedere per un test di volo. Il video è stato registrato con i settaggi di DEFOUT, nonostante questo le immagini risultano nitide e i colori brillanti. La Micro Sparrow si è comportata piuttosto bene nei cambi di luce. I Fatshark utilizzati durante il test hanno il formato 4 terzi e l'immagine negli occhiali non è risultata essere per niente distorta. Questa era la mia recensione della Runcam Micro Sparrow. Grazie per aver visto il video non dimenticate di iscrivervi al canale e di mettere mi piace. Se volete potete supportarmi anche su Patreon cliccando il link a fine video. Grazie per aver guardato il video.